Quella grillina, i 5 Stelle tornano sul tema riduzione del debito pubblico. La ricetta è tagli alla spesa improduttiva e investimenti su settori come sanità, scuola e messe in sicurezza del territorio. Così si creano migliaia di posti di lavoro e si garantiranno entrate fiscali e poi non potrà mancare il reddito di cittadinanza. Sottolineo, dice Di Maio, che non prevediamo alcun taglio alle pensioni, al contrario vogliamo aumentarle e tagliare solo quelle che superano i 5 mila euro netti e che non hanno versato i contributi. Grazie.